si inizia una nuova gita prima che ci richiudono dentro veramente casa ma perché porti la mascherina perché fa freddo buongiorno fabbio buongiorno tutto a posto tutto a posto ci anneviamo siamo arrivati fino alla punta con la macchina c'è una macchina spettacolare che macchinetta hai visto che roba adesso a destra a destra Cucu Sì, siamo arrivati a Valorgano, Sella Valorgano. Sella Valorgano 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 Sella Valorgano